Buonasera, benvenuti al Campus by Night, questa sera abbiamo con noi un ospite illustre, Franco Nembrini, insegnante e scrittore, famoso tra le altre cose per le sue lezioni sui canti della Divina Commedia, noi avevamo preparato le domande ma la cosa bella è che abbiamo stravolto tutto, per cui è stato bello prima cena perché rispetto a quello che sta succedendo qua al Campus, al titolo vogliamo tutto, Franco mi guarda e mi fa ma tu vuoi tutto, per cui per cominciare questo incontro, per farti la domanda, volevo raccontare questo senso di questo primo dato del vogliamo tutto che io capisco molto bene, che mi sembra di poter dire che davanti al tutto che io mi immagino, che può essere l'esame che vada bene, la partita di calcio della Juve che vada bene, l'Atalanta ragazzi, l'Atalanta che va benissimo, l'Atalanta va molto bene, c'è che davanti alle cose che io mi immagino come tutto è come se non bastasse niente in fondo e questo mi sembra il primo dato molto comune rispetto alla vita e rispetto a questa domanda, che cosa vuol dire vogliamo tutto e rispetto a questo grande uomo che era Dante, cosa dice lui e soprattutto questo desiderio di volere tutto, che cammino apre, no? Si capisce? Perché gli ho... Beh, buonasera innanzitutto e grazie dell'invito sono sempre molto contento di fare queste chiacchierate perché aiutano me a capire qualcosa di più, a cena prima gli ho proprio chiesto ma te, perché la domanda era questo desiderio di desiderare tutto che mi pare avete preso da una mostra sul 68, non so se lo sapete uno slogan del 68 era appunto questo, desiderare tutto, desiderare l'impossibile, stava scritto sui muri di Parigi nel 68 e io gli ho solo chiesto ma è uno slogan che avete preso perché vi piaceva o tu e quelli che ci ascolteranno, cioè voi, desideri tutto davvero? Perché allora è interessante parlarne, se è per fare un po' di Amarcord sul 68 e dirvi qualcosa su cosa fu il 68, dai, chi cazzo se ne frega, cioè, è come per Dante. quando mi chiedono i giornalisti ma lei come fa a interessare a Dante dei ragazzi di oggi che non gli frega niente di niente e io dico sempre che i ragazzi di oggi hanno tutto il diritto di fregarsene di Dante ma chi se ne frega di uno di 700 anni fa avrà detto anche delle cose interessanti ma come disse un mio alunno una volta tanti anni fa, siamo a Bergamo eh, nella profonda provincia bergamasca disse dopo l'interrogazione su Dante, certo che bella è la divina commedia, figa ma più di a tegnila più corta, tradotto, accidenti, poteva farla un po' più corta, bella ma poteva essere più corta, chi se ne frega e rispondo ai giornalisti ma io non ho mai cercato di interessare i miei alunni alla divina commedia, ho cercato sempre di interessarli alla loro vita, a quel che capita adesso a loro tutti i giorni perché se hanno il coraggio, se avrete il coraggio, se avete stasera il coraggio di prendervi in mano un momento, cioè di guardarvi, di guardare cosa succede, cosa vi succede e cosa succede intorno a voi mamma mia vengono su tante di quelle domande, anche delle ferite probabilmente, che uno ha bisogno, ha bisogno, cerca risposte, cerca qualcosa, allora potrebbe diventare interessante leggere Dante, ma per un interesse a sé, per un interesse a sé, per una, io l'ho imparato dal mio grande maestro Don Giussani, che fin da quando l'ho incontrato, quando avevo 17 anni, l'unica cosa che capivo era che mi chiedeva di avere tenerezza per me stesso, prenditi un po' sul serio, vogliti un po' bene, prenditi sul serio, tutto il resto viene dopo, allora una domanda così, vogliamo tutto, se è uno slogan chi se ne frega, ma se è la tua domanda, è la tua e la mia, e spero la vostra, allora diventa interessante parlarne, discuterne, ragionarne, e forse Dante ha qualcosa da dire, era solo per chiarire, per chiarire lo, insomma, la ragione, lo spirito per cui sono qui, detto questo non so da che parte cominciare, e se sono coerente con quello che ho detto, devo cominciare da me, allora potrei fare una cosa, però se non sei d'accordo me lo dici, capito? No, se no non serve, potrei cominciare da me, così tengo insieme le due cose, essendo io nato nel 55, lo so che sembro più giovane, ma hai messo un altro nel 55, nel 68 avevo 13 anni, il peggio è venuto dopo, 70, 71, 72, e quindi li ho vissuti proprio tra i 15 e i 20 anni, quello che chiamiamo 68 l'ho visto, l'ho visto forse un attimino dopo il suo nascere, ma l'ho visto, e la prima cosa che mi veniva da dirvi, da raccontarvi, rispetto alla domanda di stasera, è questo, che veramente, veramente quella generazione, la mia generazione, fu dominata da una grandissima volontà di cambiamento, veramente, veramente volevamo tutto, non l'abbiamo forse formulato così, ma fu una generazione straordinaria, straordinaria, straordinaria ecco in questo, nel prendere sul serio il desiderio che aveva, il desiderio che aveva a fronte di una situazione che pareva morta o moribonda, chiesa compresa, per cui a me, per esempio, quarto di dieci figli di una famiglia contadina, cattolicissima, della tradizione bergamasca più tenace, per me, se mi dite cosa è stato il 68 per te, rispondo, è stata l'esperienza tremenda di vedere spazzate via, in pochissimo tempo, tutte le certezze che avevo, ero diventato, avevo vissuto bambino e ragazzino in quella tradizione, poche cose, ma grandi, buone, la famiglia, la vita della chiesa, il cristianesimo, una tavola di valori condivisa in modo assolutamente ovvio, naturale, un rapporto con Dio ricercato, desiderato, con naturalezza, voi immaginate che a 15 anni uno sente che tutto questo viene spazzato via, ma ecco, quel che forse è interessante dialogare stasera è questo, non è stata spazzata via la tradizione, chi se ne frega, una tavola di valori, chi se ne frega, quelli si cambiano, il problema è che io sentivo con una, con un dolore fortissimo, sentivo la vita andare a puttane, la vita, cioè, appunto, avevo poche grandi certezze, la mia famiglia, che mi piacevano le donne, fin da bambino, è una cosa che Dante condivide, a nove anni ha visto lei, capito bene, è una roba così, la letteratura, la lettura, lo studio, e tra i 15, i 17 anni, una, sa Dio cosa stava succedendo, ma tutto questo mi crollava addosso, un sentimento, un sentimento invincibile, non riesco a trovare un'immagine diversa di questa, un sentimento invincibile che il nulla, il nulla, si portava via tutto quello che amavo, tutto quello a cui ero attaccato, tutto quello che aveva valore, il rapporto con i miei genitori, c'è un esempio per farmi capire, spero che facciate uno sforzo di fantasia, di immaginazione per capire, mi ricordo una sera che sono tornato a casa, tardi, ho aperto la porta, soffrivo, avevo in mente tutti questi casini, e aperta la porta, casa mia aveva un lungo corridoio, in fondo c'era la cucina, dalla porta di ingresso, in fondo, vedo mia mamma che stava lavando i piatti, stava facendo, rigovernando la cucina, e di colpo, di colpo, mi ha fulminato l'idea che mi fosse lontana, 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 lontanissima, che non potessi capirla, che lei non mi avrebbe mai potuto capire, che era impossibile tentare di comunicare, che non l'avrei mai conosciuta, mai, come se quella distanza, che era la distanza del corridoio, la vedevo un po' lontana, fosse una lontananza siderale, infinita, qualcosa, qualcuno, ripeto, il nulla me la stava portando via, ho richiuso la porta, pian pianino, in modo che non si accorgesse che ero arrivato, sono uscito, sono stato fuori tutta notte, a piangere come un pirla, a piangere, perché, se non sta su neanche il rapporto con tua madre, do cazzo vai, gli amici uguale, e la donna, la donna, in un contesto un po' meno libertino di quello che vivete voi adesso, un po' più regolato, però, però, capivo e sentivo, questo sì, che, che la donna forse, per quel che leggevo, sentivo, l'amore, tutte queste robe qui, forse la donna, aveva dentro una possibilità di bene grande, ecco, poteva essere una cosa grande, che rendeva grande la vita, e invece, e invece, proprio in quei due anni, anche questo, non funzionava più, non ci credevo più, stavo male, e proprio in quei due anni è capitato, l'unico episodio della mia vita, in cui, sembra incredibile, lo so, ma sono piaciuto, e, insomma, c'è stata una ragazzina lì dell'oratorio, che mi ha, si è dichiarata, mettiamoci insieme, chissà poi che cazzo vuol dire, mettiamoci insieme, e io, forse per l'educazione che avevo ricevuto, forse per quanto soffrivo, ho avuto almeno la, la lealtà, la sincerità, e ne sono orgoglioso ancora oggi, ma le ho, le ho, le ho detto, Margherita si chiamava, ho detto Margherita, che mi piaceva un casino, ma tanto, ma ho avuto la forza di dirle, Margherita, ascolta, se c'è una cosa che ho imparato, è che dire a una donna, ti voglio bene, vuol dire dirle, voglio il tuo bene, e io del tuo bene non so un cazzo, non so niente, non so niente del bene mio, figurati cosa so del tuo, posso, potrei offrirti solo la merda in cui mi trovo, lascia stare, lascia stare, ti posso promettere solo questo, che se un giorno troverò il bene, se un giorno trovassi, troverò il senso delle cose, qualcosa per cui valga la pena, consegnarsi a una donna, allora ti vengo a cercare, 15 giorni dopo ne aveva trovato un altro, e il problema è finito, ma è stato un atto di lealtà, con me stesso prima di tutto, di cui vado ancora fiero, fatto sta che anche quel bene naturale, istintivo che c'hai addosso, che è l'attrattivo per le donne, non stava su, e incredibilmente avevo preso a odiare, mi faceva schifo la scuola, la scuola, a me che piaceva così tanto studiare, arrivò davanti ai cancelli del liceo, mi veniva il vomito, vomito vero, al pensiero di entrare lì, 5 ore con questi deficienti, di cui, ai quali non gli fregava niente di me, niente, e che pretendevano che ripetessi le cazzate che dicevano, cioè, uno non ce la fa, 5 ore, poi 5 ore, poi 5 ore, ho detto a mio padre, nel frattempo si era ammalato, c'era bisogno, ho detto, senti, vado a lavorare, facciamo prima, così do una mano in casa, e quindi sono andato a fare l'operaio in fabbrica, almeno lì mi sentivo un po' utile, ecco, quel che voglio dire è questo, che, quando adesso dico, sento dire, voglio tutto, è quella cosa lì, io mi alzo al mattino, ho 64 anni quasi, ma è la mia forza, è il mio tesoro, è la mia, io mi alzo al mattino, ed è come se ripartissi tutti i giorni da quel punto lì, da quella domanda lì, che cosa, che cosa può tenere su davvero, la voglia che ho di voler bene una donna, la voglia che ho di conoscere, di studiare, di leggere, di imparare, la voglia che ho di un padre, e di una madre, cioè di sapere da dove vengo e dove vado, basta, ecco, quando, non è una cosa astratta, non è un principio, non è una filosofia, per me desiderare tutto voleva dire, desiderare qualcuno o qualcosa, che salvasse la vita, che la salvasse da questo naufragio, a cui pareva necessariamente destinata, ed è stato lì che, è stato in quegli anni lì che ho imparato, ho imparato per via di un'esperienza che avevo fatto alle scuole medie, con una professoressa bravissima, è stato lì che ho imparato a parlare, a parlare con la letteratura, cioè con i grandi della letteratura, a parlare, cioè, io ho questi casini qui, per questo che vi dico, si parte da voi, non da Dante, si parte da voi per parlare con Dante, io, me l'aveva insegnato quella professoressa lì, io, queste domande che avevo, a chi le fai? tra l'altro in un mondo che ti sembra più incasinato, cioè, era un casino veramente, perché in tanti, forse tutta la mia generazione, visse questo dramma, questa tragedia, poi la cosa, come sapete l'hanno buttata in politica, è andato tutto a Ramengo in pochissimo tempo, non ha tenuto questa purità di bisogno, questa purità di domanda, in un attimo si è scivolato in politica, e si è cominciato a dire che la risposta era, la rivoluzione, e buonanotte, sappiamo tutti com'è andata, ma io vi dicevo, mi alzo al mattino e ho questa domanda, e vado a verificare la risposta che nel tempo mi sembra di aver trovato, ma tutta la forza della vita, è questa domanda, è questa voglia di essere grandi, protagonisti, di avere una ragione, e un senso, e un compito, ecco un compito grande per la vita, è stata una scoperta incredibile, perché avevo imparato a far così, a chiedere, e non si osa più chiedere, la cosa più, che mi fa soffrire di più quando vi vedo, quando ragiono con voi, con voi della vostra età voglio dire, non è che voglio fare il vecchio, però, è che fate fatica, fate fatica a chiedere, fate fatica a mettere a tema le cose vere, quelle che vi fanno soffrire, o gioire, e che restano sempre sotto, e vince sempre una sorta di superficialità, di, va bene, insomma, abbiate il coraggio di essere voi stessi, voglio dire questo, io avevo imparato a far domande, e quindi, a chiedere a Dante, ma te, ma te, ti sei mai trovato nella merda, ma in quel casino lì, per cui la vita ti si disfa in mano, sa di morto, la vita a 18 anni, sa già di morte, puzza già, e allora cominci a leggere la Divina Commedia, in un modo, che non ti aveva mai insegnato nessuno, se non quella profe, e dici, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, oh cazzo, cioè, ma allora è partito così anche lui, anzi, nel mezzo del cammino, cioè a 35 anni, quando tutto sommato le cose della vita, le aveva sistemate, l'anno in cui ha vinto le elezioni, cioè, voglio dire, l'anno del successo, con famiglia, una casa, quattro soldi, lo yacht, la so, dice, ma tutto questo, tutto questo, se non so dove cazzo vado, se non so, che cosa resta, che cosa regge l'urto del tempo che passa, dove tutto sembra destinato a morire, se non c'è una luce che renda significative le cose, è tutto schifo, dai, è tutto oscuro, e allora cominci a leggere, potrei tenervi qui fino a domani mattina, lo capite, no? A leggere tutta la divina commedia, ma che belli, questi sono i quadri del mio amico Gabriele Dell'Otto, quello che disegna Spider-Man, Superman, quelle cagate lì, se mi sente mi ammazza, ma adesso ho cominciato a fare qualcosa di serio, quello che ha illustrato con la mia divina commedia, commentata, editata con la Mondadori, che vi consiglio di leggere, perché è commentata così, come sto facendo con voi, senza apparati critici, note, tutte quelle robe che la rendono insopportabile, ma tu cominci a leggere la divina commedia così, e dici, ma allora nel mezzo del cammino di nostra vita mi trovai per una selva oscura, puttana, certo, che la diritta via era smarrita, quella che mi sembrava la diritta via della mia vita, che mi avevano consegnato i miei, era andata a Catafascio, ai quanto o dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia, e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura, perché io avevo paura della realtà, della vita, se è questa schifezza, tant'è amara che poco è più morte, è come morire, e si può morire anche a vent'anni, anche a diciotto, anche facendo i ganzi, e essere morti dentro, tant'è amara che poco è più morte, ma per ridir del ben che io vi trovai, del ben che io vi trovai, questo è il verso che amo di più della divina commedia, cioè in quel casino lì in cui sei, in queste domande che ti trafiggono, ti travolgono, ti distruggono, col niente che ti porta via il padre, la madre, lo studio, la letteratura, l'amorosa, c'è del bene da scoprire, ma Dio buono, ma è una roba da andare giù di testa, ma per ridir del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi scorte, e vai avanti, e ti rimattina, e per giorni leggi e rileggi, perché capisci che sta parlando di te, sta raccontando di te, che deve aver vissuto quell'uomo un'esperienza così grande, così profonda, così vera, che è andato a beccare delle corde, che sono le corde dell'uomo, e quindi anche le mie, risuona il mio cuore, quando lo leggo, perché fa vibrare il suo, e il cuore dell'uomo è lo stesso, sempre, in ogni situazione, allora Madonna diventa un dialogo che non finisce più, capite? Immaginate di leggerla così tutta, tutta, e imparare che cosa sia l'ignavia, e il coraggio di andare dietro, oppure, oppure che roba è, che tu, leggi che lui, il primo canto, fa la cosa che deve fare, capisci che c'è una luce da raggiungere, sarebbe bello vivere nella luce, cioè capire, capire di che cosa stiamo parlando, prova a andare verso la luce da solo, cazzo, niente da fare, la lupa, il leone, la lua, e si ritrova nel profondo della selva, cioè da solo non ce la fa, io fui per ritornare più volte volto, quante volte mi sono ritrovato in quegli anni, più volte volto, a tornare indietro per la paura, per la debolezza, non ce la fai, se non che nel momento in cui sta per crepare, quando non c'è più niente da fare, c'è uno lì, si trova davanti uno, che non sa chi è, non sa da dove viene, non sa cosa vuole, niente, non sa nemmeno se è morto, se è vivo, se è un'ombra, se è un uomo, ma uno presente, e se sei nella merda che stai crepando, davanti a uno presente cosa fai? Gli dici, chiunque tu sia dammi una mano, cazzo sto morendo, non lo vedi? Questa immagine, questa grandezza di un uomo, che ha riconosciuto il suo bisogno, l'unica cosa che fa, e che può fare, è gridare, gridare aiuto, miserere di me, qualche tu si, o d'ombra, o uomo certo, miserere di me, la grande parola della vita, perché comincia così la vita, comincia così la giornata, comincia così, comincia così tutto sempre, dalla lealtà con cui riconosciamo il nostro bisogno, miserere di me, chiunque tu sia, non so neanche se sei un uomo, chi, ti vedo qui, nel momento in cui sto crepando, abbi pietà di me, che è come dire, non so, fratelli uomini, compagni di studio, amici dell'università, morosa, padre e madre, se ci sono, qualcuno, qualcuno abbia pietà di me, qualcuno abbia pietà di me, ma riesci a dirlo, se, 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 accusato il colpo, di questa ferita, di questo bisogno, di questo nulla, che morde la carne, allora è facile, allora è naturale, dire, vi prego, datemi una mano, fatemi vedere, qualcosa di grande, perché a qualcosa di grande, mi sento chiamato, e poi, e poi gli dice, sì, poi ci presevano, vi dice, un figlio, vi dice, tutta la scena, e gli dice, va bene, dai, vengo, vengo con te a vedere, di che cosa si tratta, accetta di avere una guida, un maestro, ma, ma poi leggi il secondo canto, e anche il secondo canto, finisce così, vai che ti vengo dietro, ma come, erano partiti un canto fa, cosa è successo? E scopri che nel secondo canto, Dante preso dalla vigliaccheria, come tutti noi, cioè capisci che la vita è una guerra, che il mondo va da una parte, ma te se vuoi salvare la pelle, devi andare dall'altra, tirarti fuori dalla merda, da un certo clima culturale, da certe mode, da una sensibilità, che sembra dominare, governare, devi tirarti fuori, devi avere un atto di coraggio, è una guerra, insomma, la vita è una guerra, e te quando capisci che è una guerra, dici, cazzo, non c'ho voglia, fatela voi, costa troppo, io, sol uno, mi apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino, e sì della pietate, che ritrarà la mente, che non erra, mi sono trovato da sua, chi cazzo, me lo fa fare da solo, cioè contro l'università, contro la città, contro la televisione, contro i social, no, no, non chiedetemi così tanto, e dice, va bene, allora torno indietro, vai te, che è Virgilio che lo prende, e gli dice, sei un vigliacco, perché Dante, per non fare il viaggio, viaggio della vita, si nasconde dietro all'alibi, dai, io non sono mica Enea, non sono San Paolo, come se noi dicessimo, ma va a fa, cioè, sono mica San Francesco, sono mica Madre Teresa di Calcutta, ma fatevele voi, non c'ho le qualità, non c'ho le condizioni, certo, se avessi, vivessi in un'altra città, avessi un'altra famiglia, avessi un'altra, allora fosse, ma, nelle condizioni, dai, 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 e lui fa così uguale, e Virgilio gli dice, bastardo, sei un, sei semplicemente un vigliacco, adesso ti siedi, che ti conto su com'è andata, e gli spiega, gli racconta, gli racconta che lui, Virgilio, se ne stava pericare, i cazzi suoi, tranquillo, l'ultimo pensiero che aveva era, di andare a soccorrere Dante, se non che, una ragazza, bellissima, luceva gli occhi suoi, più che la stella, una ragazza infinitamente bella, che te, appena la vedi, dici, dimmi cosa devo fare, sono tuo, l'ha cercato, gli è andata incontro, lui era lì che, dico sempre agli alunni a scuola, era lì che si faceva il suo pocherino, con Omero, Lucano, Ovidio, insomma, quei tre, quei quattro lì, arriva lei, anche un po' incazzata, che gli dice, Vigilio, perché non vai a salvare, a salvare il tizio, lui, travolto dalla sua bellezza, dice subito, vado, 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 però, scusa un attimo prima, chi cazzo sei, te ne frega di quello là, e lei gli dice, ah, vedi, sono la sua vecchia fidanzata, sto ragazzo mi sta ancora un po' a cuore, ma gli dice, soprattutto, amor mi mosse, che mi fa parlare, vengo dal loco, ove tornare disio, e lui capisce che è Beatrizia che arriva dal paradiso, ragazzi, fate quel che volete, pensate quel che volete, non so se siete credenti, atei, ma non me ne può fregare te meno, ma, ma, vi chiedo, ma che amore è quello di una donna, che va all'inferno a riprendersi il suo uomo, che amore è, che amore è quello di una donna che lascia il paradiso, per andare all'inferno, a riprendersi il suo uomo, io una donna così volevo, che mi sapesse perdonare così, che mi sapesse voler bene così, l'ho trovata, l'ho anche sposata, andata a Dio, io volevo questo, e tu lo leggi e dici, ma come ha fatto quest'uomo a descriverlo così bene, a dire così, cose così vere di me, di me, capite? E poi, insomma, immaginate cento canti, che possono essere letti così, come un incredibile percorso, che rende la vita piena, buona, grande, cos'è che diceva il titolo lì? L'ardor che io ebbi a divenire del mondo esperto. Ecco, un altro, l'ardor che io ebbi a divenire, dopo, io ho finito, domande? Io ne avrei una, ho chiesto io di venire, non ne ha previsto, questa domanda, vieni sul tavolo, se hai le palle, la fai davanti a tutti. Gestione Franco qua. Eh? Gestione Franco. Sì. Dai. È inerente appunto, al titolo, vogliamo tutto, che io lo ricollego molto, ai rapporti, in primis con gli amici, ma soprattutto, in relazione alla famiglia, perché, in questi ultimi anni, ho sempre fatto fatica, nel rapporto con i miei familiari, perché, quattro anni fa, si sono separati, e, con mia mamma, riesco ad avere un rapporto, anche se burrascoso, posso dire ottimo, perché lei c'è sempre per me, mentre, con mio padre, si è fatta una nuova famiglia, e sono quattro anni, che, io non riesco ad avere un momento, da solo con lui, per cui, mi chiedevo, appunto, questo voler tutto, che passa, questo mio desiderio di voler tutto, che passa dai rapporti, quando mi manca, uno dei miei pilastri fondamentali, che è mio padre, perché, l'ho sempre considerato come, un mio eroe, una, una figura da seguire, che, io ho sempre sognato di diventare come lui. Questo. Bisognerebbe, non bisognerebbe, non bisognerebbe, sì, consideriamo, resto sudante per rispondere, perché c'è, evidentemente, una domanda così, c'entra con la frase, là di Ulisse, ma, dobbiamo partire dalla considerazione, che il povero Dante, è partito proprio così, e non col padre, nel suo caso, ma con la donna, che è più interessante ancora, perché, lui ha un certo, insomma, c'è tutta una storia bellissima, che leggerete, Mondadori, fra quei commentanti, Dante e Ghiro Inferno, c'è tutta una storia bellissima, che è quella raccontata nella vita nuova, quest'opera, mai studiata, ahimè, e mai presentata a scuola, che invece, ritengo, ritengo, sia il primo volume, della Divina Commedia, tant'è che, quando la Mondadori, mi ha chiesto di fare questa, questa edizione, ho proposto, ho proposto la prima edizione, della Divina Commedia, in quattro volumi, una rivoluzione, ma anche loro me l'han detto, è veramente un'idea rivoluzionaria, il giorno dopo mi hanno chiamato, mi hanno detto, è veramente un'idea rivoluzionaria, troppo rivoluzionaria, e quindi, non se n'è fatto niente, però, però il primo volume, La Vita Nova, invece che essere un volume, è diventato, una corposa introduzione all'inferno, ma la cosa è straordinaria, perché lui, Dante, ha una intuizione pazzesca, faccio fatica, dopo tanti anni ancora, a guardarla, mi fa venire le vertigini, perché lui, con la storia che vede, sta ragazzina a nove anni, poi a diciotto, poi e ci pensa, ci lavora sopra, lui una cosa sa, che quella donna, quella ragazza, potrebbe essere per lui, la fonte della felicità, del compiersi della vita, sarebbe, dai, la risposta a quel desiderare tutto, che dicevamo, sarebbe la felicità, mi renderebbe beato, Beatrice, colei che rende beati, oh, ma se stai davanti alla tua donna così, è una roba da andare giù di testa, quando poi lei gli si dichiara e gli dice, insomma, gli fa intendere che la cosa si può fare, se ne può ragionare, diciamo l'aperto, vero, si può? Sì, sì, adesso a trovare l'accendino, il problema, quando lei gli dice di sì, e lui va fuori di testa, fuori di testa, perché gli dice, oh, è figata, gli cambia la vita, vita nuova, nuova, una roba che prima non c'era, ma dall'incontro con lei, cambia tutto, e leggetele certe pagine, perché se no non si capisce, cambia tutto vuol dire, che non sente più niente, nemico o estraneo, dice che quando guardava lei, era in grado di perdonare, a tutto quello che aveva intorno, perdonare vuol dire accogliere, vuol dire abbracciare tutto, tutto è quel tutto che desideri te, che avete messo nello slogan, tutto mi tornava amico, e una fiamma di carità mi invadeva, tale che se qualcuno mi avesse fermato per strada, e mi avesse fatto una qualsiasi domanda, io a tutte le domande avrei risposto, amore, amore, l'amore, tutto abbraccia, tutto ti consegna, cazzo una roba, se non che, ha questa percezione di Beatrice come strada per questo bene grande, se non che, la Beatrice ha la pessima idea di morire, e lo pianta in asso, lo pianta col culo per terra, quella che sembrava essere il termine ultimo della felicità, tradisce la promessa, ma che realismo ci vuole per dirlo, ragazzi, che realismo ci vuole per guardare la propria donna, o i propri figli, o qualsiasi cosa, oh ragazzi, sono commosso fino all'osso, guarda, che lealtà ci vuole per guardarsi e dirsi, appunto, il mio desiderio di felicità è più grande di te, non lo puoi colmare nemmeno tu, la scoperta che Dante fa con la morte di Beatrice è questa, era sembrata il termine ultimo della felicità, invece viene meno, e allora, questa è la cosa pazzesca che fa Dante, e tutta la letteratura poi inseguirà questo sogno senza riuscirci, allora Dante dice, fermi tutti, c'è qualcosa che non torna, allora, io vengo al mondo con una promessa di bene immensa, infinita, con questo desiderio di tutto, incontro una ragazza che mi sembra, che è proprio lei, quella capace di portarmi tutto, e proprio sul più bello, quando il suo sguardo sembra cambiarmi la vita, render grande la vita, una vita nuova, proprio sul più bello muore, ma che cazzo è? Ma cos'è? Perché vorrebbe dire che la vita è un'infinita presa per il culo, è un inganno continuo, è un tradimento continuo della promessa, ma come si fa a stare al mondo così? Direbbe Leopardi, o natura, o natura, perché di tanto inganni i figli tuoi? perché non rendi poi da grandi quel che prometti a loro, quel che speriamo da giovani? la vita può essere questo tradimento, questa presa in giro, mamma mia, c'è da spararsi, ma Dante, cristiano, ha il coraggio di fare il passo, e dice, fermi un attimo, perché, se ho vissuto quello che ho vissuto con quella ragazza, se quella tensione al bene, al tutto, voglio tutto, è reale, ce l'ho, ce l'ho da quando sono nato, è quel che fa l'uomo uomo, e ho avuto l'esperienza, che quel tutto c'è, perché quella ragazza lì, mi aveva fatto vivere bene, era grande quello che vivevo con lei, e il suo venir meno, magari, non è, non è il tradimento della promessa, è il compiersi della promessa, in un modo che io non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge, c'è qualcosa di quella ragazza, cioè della mia ragazza, della donna con cui mi trovo, c'è qualcosa da capire, che forse, una roba da pazzi, che forse non è stato capito mai, anzi, se mi riesce di capirlo, e di dirlo, finisce, che dico di questa donna, quello che non è mai stato detto, nella storia dell'umanità, la grande, immensa chiusura, della vita nuova, appresso a questo soneto, questo studiate a memoria, a memoria ragazzi, perché vi deve macinare il cervello, appresso a questo soneto, apparve a me, un'ammirabile visione, nella quale io vidi cose, che mi fecero promettere, di non dire più, di questa benedetta, infino a tanto, che io potessi più degnamente, trattare di lei, ho deciso di stare zitto, perché non capisco, adesso ci penso, e poi vedremo, ma devo saper dire cose, che siano all'altezza della situazione, e di venire a ciò, io studio quanto posso, siccome la sai veracemente, di venire a ciò, è la definizione dello studio, più bella che conosco, e di venire a ciò, a capire lo scopo, per cui sono venuto al mondo, e ho questa speranza dentro, io studio quanto posso, qualsiasi cosa si studi, siccome la sai veracemente, sicché, se piacere sarà di colui, a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per quanti anni, cioè se padre eterno, mi fa campare abbastanza, io spero di dicere di lei, quello che mai, non fu detto di alcuna, ragazzi è una roba, da andare giù di testa, io spero di dir di Beatrice, quello che non è stato detto, nella storia, nel mondo, mai, in nessuna regione, in sua filosofia, in sua letteratura, forse dirò della mia donna, quello che di nessuna donna, è mai stato detto, dopodiché, a Dio piacendo, andrò in paradiso, a vedere cosa, a vedere Dio, ma chi se ne frega di Dio, in paradiso voglio andare a vedere, la mia donna, perché se funziona così, è fatta, la morte non è vero, che è l'ultima parola, la debolezza, il peccato, il tradimento, il fatto che poi la moglie, non è mai quella che doveva essere, e il marito pure, insomma, tutte le delusioni, tutti i tradimenti, tutte le contraddizioni della vita, hanno dentro una possibilità di bene, e così Dante torna indietro, a raccontarsi di questa possibilità, allora, il padre, il padre che viene meno, i genitori che si separano, l'amico che tradisce, che ti prende per il culo, l'autorità che non è quella che dovrebbe essere, il prete o la chiesa che scandalizza invece che aiutare, tu stesso che fai schifo a te stesso, quando ti guardi allo specchio, tutto questo, non è l'ultima parola, c'è un bene, c'è un bene, c'è una vittoria del bene, dentro cui incamminarsi, c'è una paternità, da scoprire, che non sostituisce, regge, e fa perdonare, anche il padre peggiore che si ha, anche la madre più isterica che si ha, anche i delitti dei propri genitori, e dei propri fratelli, c'è un bene che vince, perché tutto, tutto, è stato perdonato, ma è l'avventura cristiana, dopo, voi potete fare le scelte che volete, fate come vi pare, io, quando a 17 anni ho capito, ho sentito, che c'era questa possibilità, ho fatto la scelta più intelligente del mondo, andare a vedere se era vera, dopo, ripeto, fate quel che volete, ma, come dico a scuola, ragazzi, semplice no? Ragazzi, potete far, pensarla come vi pare, ma avete un problema, e quale? Morirete, tutti, e allora si toccano i coglioni, ti hanno fuori, fanno, no? E me becca morto, mi enagramo, mi insultano, dopo un quarto d'ora di cazzate, dico, bene, adesso che vi siete sfogati, posso dire una cosa, morirete tutti, e se morirete tutti, e le vostre donne, i vostri, i vostri sogni, vuol dire che siete già morti, perché se tutto muore, è tutto uguale, non vale un cazzo niente, non vale nessun sacrificio, non vale nessun ideale, ma sono venuto a dirvi, a darvi una notizia, che ho letto sui giornali stamattina, gliela vendo così, che ho letto sui giornali stamattina, tre o quattro giornalisti, contemporaneamente, hanno scritto, che pare che da qualche parte, uno, ce l'abbia fatta, pare che uno, sia risorto dei morti, i giornalisti, si chiamano Matteo, Luca, Giovanni e Marco, e da due mila anni, circola questa notizia nel mondo, potete essere atei, pagani, miscredenti, ti mangia preti, che va benissimo, ma la domanda che vi faccio, è semplice, è questa, ditemi se c'è qualcosa, che vale la pena, andare a vedere se è vero o no, che valga più di questa, gira la notizia, che uno è risorto dei morti, se è vero, io sono salvo, e salvo il tuo papà, la tua mamma, la tua famiglia, tutto il dolore del mondo, tutto il male che c'è, se è vero, io rivedrò il mio papà e la mia mamma, rivedrò perfino voi, che non vedo per un cazzo, perché è buio, e abbiamo le luci in faccia che rompono, ma rivedrò ciascuno, non solo rivedrò tutto quello che ho amato, ma anche quello che non ho saputo amare addirittura, tutto è salvo, se non è vero, vabbè, ognuno faccia i cazzi di suo, che tanto è tutto uguale, è tutto disperazione, è nulla, è polvere, ma se quella notizia è vera, è l'unica cosa che vale la pena andare a verificare, la cosa pazzesca che Dante fa, è che fa questo, dice adesso, voglio andare a vedere se è vero, ha fatto un tipo di esperienza, tale, per cui a un certo punto ha ritenuto, di poter dire, è vera, è vera, torno indietro e la racconto a tutti, e prende, dieci anni dopo la morte di Beatrice, prende carta e penna, per scriverla in Divina Commedia, per raccontare che è tutto vero, che tutto è salvo, che tutto è, tutto è paradiso, ma io, il mio rapporto con la Divina Commedia è questo qui, dopo, si capisce? Domande? Io sono già dieci e mezza, ho parlato troppo, domande, anche dal pubblico, se no andiamo a bere, facciamo bisboccia, ho risposto, il tema della serata, ho chiesto se ho risposto al tema della serata, lui dice di sì, ma è molto gentile, è garbato, non gli credo, volete tutto? No, fatemi fare una osservazione ancora, poi chiudiamo, la frase lì, dell'Ulisse, io nel commentare l'Ulisse, ci ho speso tanto, perché è una figura molto interessante, molto intrigante, per tanti anni ho letto la figura di Ulisse, come se fosse, l'emblema, il simbolo, di questo slancio dell'uomo verso l'infinito, è proprio, pare la figura del voglio tutto, e quindi via, all'avventura sfidando le colonne d'Ercole, i limiti posti dagli dèi, bla bla, e invece nel commento che faccio io, sfatto un po' questa immagine, perché non mi convince neanche un po', prima di tutto, va bene, è l'uomo con tutto il suo desiderio, proprio Dante poeta del desiderio, lì viene fuori alla grande, ma perché è all'inferno? Perché se è l'uomo ideale, cazzo, deve essere in paradiso, poi sei all'inferno, cos'è che non ha funzionato? E lì, devo dirvi l'interessantissimo quel canto, andate a rivederlo, perché mi sembra di aver capito, mi sembra di aver capito che Ulisse vuole arrivare dove deve arrivare, dall'altra parte, sulla spiaggetta del purgatorio, per poter fare il viaggio anche lui, no? Il problema è che fa il surfista della vita, cioè rimane alla superficie, fa il giro, ma rimanendo in superficie, non entra nelle circostanze della vita, anzi, le rifiuta e oppone le circostanze della vita, mia moglie, mio padre, mio figlio, li oppone al desiderio che ha a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, cioè il debito amore che doveva Pennello per far l'ietà e il vecchio padre, oh, quella donna lì l'ha aspettato per vent'anni, per vent'anni fedele, rifiutando le richieste e le promesse di quegli altri giovanotti che c'era intorno, per vent'anni lo aspetta e lui non la caga neanche il striscio, eh, qualcosa che non va, c'è, comunque, né il debito amore che doveva Pennello per far l'ietà, né la gratitudine, l'affetto per il vecchio padre e neanche poter stare e fare il padre a un figlio che non ha mai visto, che ormai ha vent'anni, nessuno di questi tre affetti poterono frenare in me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto, eccetera. Il risultato di questo tentativo è il naufragio. Va male, la vita così va male, non funziona. Dante, che si trova allo stesso punto di partenza e deve arrivare allo stesso punto di arrivo, perché Ulisse non è che la tempesta la trova in mezzo al mare, quando vede la montagna e il purgatorio la tempesta viene proprio dal purgatorio o dalla montagna, cioè quello che doveva essere il traguardo, la salvezza e ciò che lo condanna. Dante, che vuole arrivare allo stesso punto, si sente dire dal tizio lì che ha incontrato, Dante, va bene che vuoi arrivare là, ma stai attento, a te conviene tenere altro viaggio se vuoi campare da sto loco selvaggio, tant'è che lo stesso Dante gli dice te, io vengo, però, mi raccomando, stai attento perché non vorrei mai che fosse un folle volo, che sono i termini che usa per Ulisse. insomma, Dante, a differenza di Ulisse, sfida le circostanze in cui Dio l'ha messo e nelle circostanze concrete in cui Dio l'ha messo vuole andare a trovare l'infinito. l'uomo si piega al particolare, si umilia, si può amare il particolare soltanto se nel particolare è possibile incontrare l'universale perché è fatto per, hai ragione, avete ragione, il cuore dell'uomo è fatto per avere tutto, si arrende ad avere una cosa sola se in quella cosa sola c'è tutto. Si capisce? Si capisce o no? Allora, il problema della vita non è come si può dire? Il problema della vita non è che siccome siamo fatti per avere tutto e siccome le donne mi piacciono ho diritto ad avere tutte le donne. Il problema della vita è se nell'amore a una donna posso mettere in campo cioè mettere in gioco tutto l'affetto che ho per l'umanità intera donne e uomini tutto 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 l'affezione che ho tutta l'attrattiva per la bellezza che vivo tutta l'intensità di sacrificio di cui mi sento capace tutto il tutto se lo posso vivere lì in quel particolare in quella donna in quei figli in quella casa in quella università in quella città le circostanze che diventano un particolare che porta con sé l'universale questa è la cosa che Dante capisce e allora l'itinerario che fa è diverso non fa il surfista fa quello che va a fondo del suo particolare certo che vuol dire andare a vedere tutto il male che in quel particolare può esserci e di cui siamo capaci e fare tutto il percorso per vincere questo male purgatorio e accedere a una esperienza di bene altrimenti impossibile che è il paradiso quindi è una lotta vera ma dentro quella lotta è salvato il desiderio del tutto e la delicatezza la tenerezza la insomma la bellezza del particolare che ti è consegnato allora le circostanze della vita ti diventano amiche invece che nemiche perché è lì nella tua donna nei tuoi figli c'è tutto 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 quel che serve per vivere e la vita in qualche modo così si compie era per chiarire con l'Ulisse la questione del tutto e del si capisce? si capisce io ti ringrazio davvero tanto perché stasera pensavo di avere la lezione su Dante invece mi hai fatto incontrare due persone che vogliono proprio tutto cioè che siete te e Dante per cui apre una possibilità che questo bene ci sia che per me è interessante e diventa interessante anche partire domani e chiedersi ma è veramente possibile anche per me quello che dice Franco stasera ed è bello perché è come se cavolo cioè io posso ripartire anche proprio da qua da degli amici che hanno costruito tutto questo con questa grandissima provocazione per cui vogliamo tutto io dopo stasera posso dire non capisco ancora bene cosa vuol dire però per come lo racconti tu è proprio desiderabile per cui ti ringrazio grazie a voi non si poteva lasciare così anche prima Dio buono almeno grazie buona serata buona continuazione buona festa buon tutto andiamo a bere grazie a tutti Grazie a tutti.